Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Padre e figlia sorpresi a rubare il centro commerciale Distrugge auto e fioriere rintracciato dalla Municipale Se ripresenta il bilancio di previsione del Comune di Fano Negli ospedali di Fano e Pesaro arriva il wifi per i degenti Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto, ben ritrovati, buon inizio settimana a tutti voi cari telespettatori di Fano TV Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 Partiamo dalla cronaca Andiamo a Fano perché c'è stato un arresto da parte dei carabinieri Sono stati arrestati padre e figlia Che sono stati sorpresi a rubare all'interno del centro commerciale Fano Center Padre e figlia di etnia Sinti, provenienti entrambi da un campo nomadi nel Vicentino Sono stati arrestati dai militari della compagnia Carabinieri di Fano per furto aggravato in concorso Bottiglie di champagne, cinque bottiglie di pregiato cognac del valore di oltre 250 euro E numerosi capi di abbigliamento ed altre bottiglie di liquori Questo il corposo bottino dei due 57 anni il padre con una sfilza di precedenti sempre per furto E 28 anni la figlia I due avevano rubato dai negozi del Fano Center Eliminando le placche antitaccheggio con uno strumento da scasso Trovato poi dai militari nella borsa della donna Padre e figlia erano stati notati dalla vigilanza interna per i loro atteggiamenti sospetti Ed oltre a tenerli d'occhio gli uomini della vigilanza hanno anche avvertito i Carabinieri Che si sono fatti trovare all'uscita del centro commerciale La 28enne portava via le bottiglie di liquore dagli scaffali Dopo aver tolto l'antitaccheggio grazie ad una cartuccera fatta appositamente e legata in vita Nascosta con abiti voluminosi nella quale poteva portare via anche cinque bottiglie alla volta Nell'auto poi i Carabinieri hanno rinvenuto altra refurtiva rubata in un negozio sempre di abbigliamento nella galleria Nella mattinata di oggi il giudice del Tribunale di Pesaro ha convalidato l'arresto con rito per direttissima E condannato il padre a dieci mesi di carcere e la figlia a sei mesi Oltre che a una pena pecuniaria di 400 euro Un giovane esce di strada con la sua auto, finisce contro una fioriera Distrugge sia l'auto che la fioriera ma al posto di denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine Come si dovrebbe fare in questi casi ha fatto finta di niente Però è stato rintracciato dalla polizia locale di Fano Un tangibile esempio di come la collaborazione attiva di virtuosi cittadini con le forze dell'ordine Porti all'individuazione in poco tempo di chi invece virtuoso non è Si è verificato nei giorni scorsi a Fano Venerdì 16 febbraio scorso, intorno alle 20 di sera A Bellocchi, nella rotatoria vicino alle scuole elementari Montessori Una golf guidata da un ventenne del posto ha centrato in pieno un cordolo stradale Ed alcune strutture di deviazione del traffico posizionate in concomitanza Proprio con la realizzazione della rotatoria per chiudere il vecchio ingresso della prima strada Invitiamo comunque la cittadinanza a rivolgersi a noi anche quando rilevano dei danneggiamenti le strutture pubbliche Senza più che ci siano sul posto i veicoli coinvolti Perché come in questo caso si mette in campo un'attività di indagine E come anche in questo caso nella maggior parte delle volte si riesce a risalire all'autore E al responsabile che deve poi risarcire i danni Proprio perché le strutture pubbliche sono un bene di tutti E quando vengono danneggiate intanto l'assicurazione copre pure i danni causati a queste strutture pubbliche Ma qualora non si riesca invece a rintracciare un responsabile È chiaro che il costo ricade proprio su tutta la collettività Notevoli danni causati sia alla macchina di proprietà della madre del giovane Che alle strutture pubbliche fortemente danneggiate dall'urto e rese quindi anche pericolose Ma questo non ha spinto il ventenne a denunciare l'accaduto come si deve fare in questi casi Bensì ha fatto ritorno alla sua abitazione come nulla fosse Ci hanno pensato però gli abitanti del posto ad allertare gli agenti della polizia locale Che grazie appunto alle testimonianze raccolte anche senza immagini video Hanno rintracciato in breve tempo l'autore del danneggiamento Grazie anche ad alcune tracce lasciate sul posto Abbiamo inviato una nostra pattuglia e grazie ad alcuni elementi reperiti sul posto Ad alcune informazioni è poi riuscita a risalire all'autore del danno In particolare si è partiti da un piccolo frammento del logo della macchina Dalla quale si riusciva a capire che si trattava di una Volkswagen Poi i nostri agenti nonostante sul posto non vi sia la presenza di telecamere Quindi non hanno potuto beneficiare di questo ausilio Però grazie alle loro indagini e ad alcune informazioni insomma reperite sul posto Come vi ho anticipato sono riuscite a risalire all'autore del danno E' molto importante risalire in questi casi all'autore dell'incidente Perché questo ci consente poi di poter risarcire le strutture pubbliche Le strutture che sono a beneficio di tutti Spero che si sia capito che naturalmente non era il servizio riferito soltanto alla semplice fioriera Ma il messaggio che deve passare è proprio questo Che quando succedono cose di questo genere bisogna comunque denunciarle E non far finta di nulla Adesso andiamo invece a Pesaro Perché i carabinieri la settimana scorsa hanno fatto un bilancio Dell'attività svolta nel 2017 e in questo inizio 2018 Per quanto concerne i risultati dell'attività operativa che è stata effettuata nella globalità Dalla compagnia Carabinieri di Pesaro che ho l'onore di comandare Posso dirvi che nell'arco dell'anno solare gennaio-dicembre 2017 La compagnia ha effettuato 127 arresti Ha deferito in stato di libertà 783 soggetti E ha svolto pattuglie per lustrazioni per il controllo essenziale del territorio Circa 5.000 pattuglie in un anno Pattuglie che quindi hanno visto impiegati circa 10.000 militari per il controllo del territorio Che per noi è fondamentale perché ci garantisce sia un momento di vicinanza Anche di saluto con il cittadino che viene fermato casualmente al posto di controllo O al posto di blocco Ma ci serve anche moltissimo perché da questi controlli sul territorio Riusciamo a recepire quelli che sono i soggetti di interesse operativo Che invece devono essere controllati, seguiti e monitorati nei loro passaggi sul territorio In particolare quindi nel 2017 tramite queste pattuglie per lustrazioni Noi siamo riusciti a identificare circa 27.000 persone E 20.000 mezzi utilizzati sulla circolazione su strada Per quanto concerne invece l'anno 2018 Dal 1 gennaio al 15 febbraio dell'anno in corso Sono stati effettuati al momento sempre dalla compagnia di Pesaro globalmente intesa 15 arresti, sono state deferite in stato di libertà 35 persone Abbiamo svonto 500 pattuglie e per lustrazioni con circa 1.000 militari Il che ci ha consentito di identificare quasi 3.000 persone E controllare circa 1.500 mezzi su strada Sempre per incrementare quindi il controllo del territorio fondamentale Per cercare di garantire un senso anche di sicurezza e di presenza sul territorio Da parte dell'arma dei carabinieri Quindi in ogni momento invito anche i cittadini Se hanno necessità di qualunque tipo Anche chiedere un'indicazione, chiedere un consiglio Invito i cittadini a fermare con fiducia Ad avvicinarsi con fiducia alle pattuglie che vedono ferme per strada Perché noi siamo là apposta per essere a disposizione dei cittadini E delle persone che possono avere anche un bisogno immediato Hanno fatto una certa impressione i dati di qualche settimana fa Snocciolati dalla CISL Riferiti alle slot machine nella provincia di Pesaro e Urbino Per questo oggi la stessa CISL lancia una sfida rivolta ai comuni Cioè quella di fare più controlli e soprattutto stringere di più la cinghia Riferendosi agli orari e soprattutto per chi gioca alle slot machine Noi proponiamo ai sindaci di prendere una decisione molto semplice, molto lineare Di adottare un regolamento comunale che preveda innanzitutto la limitazione degli orari di giocata Quindi negli orari sensibili all'ingresso degli orari di lavoro, l'uscita delle scuole Quindi dalle 8 alle 10, da mezzogiorno alle 2, dalle 6 alle 8 di vietare le slot Di adottare regolamenti che incentivano pesantemente chi toglie le slot Quindi ridurre tutte le tasse locali ma altresì aumentare le tasse locali per coloro che invece mantengono le slot Il comune può agire sulla Tari, sulla Tosap, sull'Imu Quindi sono tasse di pertenenza comunale Terza cosa è di rafforzare i controlli sui locali dove si gioca con le slot Ed evitare tutte le pubblicità occulte Tipo tutti i manifestini messi fuori delle vetrine, hai vinto, hai vinto, hai vinto, hai vinto Ecco chiediamo a tutti i sindaci del territorio di prendere con coraggio questa decisione Sapendo che è una decisione importante e significativa Tenuto conto anche delle risorse che i cittadini spendono nelle slot Ci sono comuni virtuosi, anche esempi particolarmente vincenti in tutta Italia Ci sono gli esempi positivi comunque? Sì c'è stato un comune significativo perché il comune di Bergamo ha adottato un regolamento Di cui appunto abbiamo accennato prima le proposte che ricalca quello di Bergamo Hanno dovuto fare ricorso al TAR perché ovviamente i gestori delle slot si erano posti Ecco però chiediamo ai sindaci di confrontarsi magari con il collega di Bergamo C'è anche la regione che ha emanato una legge regionale Quindi ci sono tutti i contesti, i riferimenti e i normativi per fare questa scelta E adottare questi regolamenti La giunta comunale di Fano, la giunta guidata da Massimo Seri Ha presentato oggi il bilancio di previsione 2018-2020 E con la chiusura del bilancio di previsione 2018 Andremo a completare una serie di interventi che in questi 4 anni hanno portato nella città di Fano Risorse, interventi straordinari che hanno fatto crescere la città Poi si può far finta di non vedere le cose ma sono sotto gli occhi di tutti Gli interventi fatti, gli investimenti per questa città sono veramente tanti Un comune, grande o piccolo che sia, è come una grande casa Dove i cittadini sono i suoi abitanti e il sindaco l'amministratore Il territorio e le strutture, le mura della casa Che come ogni casa e ogni famiglia ha bisogno di amministrare le risorse Aggiungere e aggiustare le cose rotte e mantenere in buona salute i suoi abitanti Domani verrà portato in consiglio comunale per la discussione Il bilancio di previsione per il 2018 del comune di Fano Ovvero dove verranno spesi i soldi della borsa Ogni amministrazione erige la sua casa e sceglie come spenderli quindi E' questo che fa la differenza tra una casa bella e una casa brutta E' un'importante partita quella che la giunta serie si gioca con questo bilancio Anche in previsione delle elezioni comunali che si terranno il prossimo anno E' ricevuto il via libera dalla sua giunta Quindi il sindaco e i suoi assessori presenteranno un documento Da oltre 60 milioni di euro di spesa ordinaria Più un piano di investimenti Ora si deve passare però al vaglio in consiglio Con non poche incognite all'orizzonte I principali capitoli che dettano il segno distintivo di questo bilancio E che riceveranno capitoli di spesa con il segno più davanti Sembrano essere quelli a maggior impatto estetico della casa comune Come dire, fino ad ora abbiamo fatto la struttura, i pilastri della nostra casa E ora passiamo alle rifiniture e agli abbellimenti Senza però tralasciare la sostanza, ovvero le cose esenziali Ai servizi educativi infatti andranno 124 mila euro in più Alla cultura 103 mila euro Al turismo, all'accoglienza e alla promozione turistica Più 83 mila euro L'ambito sociale, come dicevamo appunto la sostanza Andranno ben 1,7 milioni di euro Ma anche il verde pubblico e l'abbellimento non sarà da meno Perché si beccherà 550 mila euro Sport, cultura e turismo verde pubblico Quindi per migliorare l'estetica del palazzo E dare una bella lucidata alle pareti Ma anche servizi sociali e welfare Per far star meglio gli abitanti del condominio E naturalmente, come poteva che essere altrimenti Per il gioco delle parti, l'opposizione annuncia battaglia Sir Filippi, allora che cosa non vi garba di questo bilancio Che presenteranno in comune nelle prossime ore? Sì, purtroppo il sindaco e questa maggioranza Sta omettendo i cittadini fanesi la vera verità Nel senso che questo è un bilancio preventivo di solo fumo negli occhi Che illude purtroppo tutti i cittadini Anche perché, a detta del sindaco, tutti i capitoli effettivamente aumentano Nei capitoli di spesa, sport, turismo Ma uno, non è vero che raggiungono i livelli di due anni fa Parlo dello sport perché sono stati tagliati ancora una volta 50.000 euro di contributo alla società che gestiscono gli impianti Inoltre hanno gonfiato le entrate comunali E questo permette sia di sbloccare fondi nel bilancio corrente Quindi spese minute Sia investimenti in conto capitale Hanno gonfiato il bilancio del comune di circa 117 milioni di euro tra entrate e uscite L'anno scorso era 13 milioni di euro in meno Quindi pensate quanto sono state gonfiate le somme Veramente ci sono 6 milioni di euro provenienti dall'Unione Europea Entrate varie dall'Unione Europea Quindi è un capitolo generico Bene, detto ciò, noi come consiglieri di minoranza Abbiamo presentato 12 emendamenti Perché crediamo che anche con questo bilancio Si potrebbero fare delle iniziative che sono state accantonate da questa amministrazione Parlo di 100 mila euro per l'affano dei Cesari E 50 mila euro del carnevale estivo Che noi abbiamo proposto di inserire all'interno di questo bilancio Che attualmente non ci sono Quindi il turismo ancora una volta Vede due manifestazioni cari nell'estate E esserne privo Stessa cosa, lo sport Quindi 50 mila euro in più per lo sport Abbiamo proposto più soldi ai parchi e ai cittadini Perché comunque le esigenze maggiori sono quelle dei parchi Quello delle strade Abbiamo proposto 100 mila euro in più delle strade Da dove prendiamo questi soldi? Dall'aumento della comunicazione istituzionale del sindaco Rispetto all'anno scorso più 16 mila euro Dall'aumento del personale a tempo determinato Assunto dal sindaco Quindi su incarico fiduciario del sindaco Che continua ad aumentare Dall'avvocatura per il quale il Comune di Fano spende centinaia di migliaia di euro E anche da tutti quegli incarichi e quelle consulenze Che questa amministrazione in questi anni continua a elargire A destra e manca Io spero che la maggioranza abbia un occhio di riguardo Al di là delle prospettive fumose del sindaco e di questa maggioranza Abbia un occhio di riguardo per le nostre proposte che abbiamo fatto Perché ci sono dei capitoli di spesa del turismo, dello sport, del verde, delle strade Che sono urgentissimi e spero che vengano approvate Il vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche Renato Claudio Minardi Replica al candidato del Movimento 5 Stelle alla Camera Maurizio Cattoi In merito alle dichiarazioni rilasciate al nostro telegiornale qualche giorno fa Minardi allora è stato tirato in causa alcuni giorni fa da Cattoi e del Movimento 5 Stelle Su questi versamenti che uno dovrebbe più o meno fare Cosa si sente di dire? Beh intanto a Cattoi la prima cosa che mi verrebbe da dire è questa Che il Consiglio regionale non è stato eletto 5 anni fa ma 2 anni e mezzo fa Questo Cattoi credo che dovrebbe saperlo Poi credo che la buona politica si misuri con i fatti, con le azioni concrete Io in questi anni mi sono impegnato ad esempio con Camilla Fabri Per salvare la sede Saipem di Fano Una sede che qualche anno fa rischiava di perdere 1200 posti di lavoro E che sono stati salvati grazie all'impegno e alla determinazione che io ho messo Come consigliere regionale ma insieme alla parlamentare Camilla Fabri Oggi la sede Saipem è salva e credo che su questo comunque dovremo continuare a vigilare L'altro tema che mi ha visto impegnato in prima linea è ad esempio il lavoro sul dragaggio del porto E di qualche giorno fa la conclusione della procedura che ha stralciato l'operazione di dragaggio del porto Rispetto a tutti gli altri porti delle Marche Il Comune di Fano grazie a questo lavoro potrà partire con i lavori nei prossimi giorni Mi sono impegnato ad esempio anche per completare il lavoro di difesa della costa Con la realizzazione delle scogliere Ecco sono fatti concreti questi che sono il risultato di un lavoro per il proprio territorio I parlamentari 5 Stelle del territorio cosa hanno fatto per il territorio? Se non ricordo male hanno votato contro anche la legge che si occupa delle celebrazioni del 150esimo di Rossini E quindi un evento importante che non riguarda solo Pesaro ma riguarda l'intera comunità Ecco io credo che la buona politica sia impegnarsi per il territorio Dare delle risposte ai cittadini, risposte concrete E vorrei ricordare per esempio ai 5 Stelle che hanno votato ad esempio contro la legge che aboliva il finanziamento pubblico dei partiti Sono tante risorse, tanti milioni di euro che lo Stato non spende più Oggi la politica si autofinanzia, i 5 Stelle votarono contro Io credo che i 5 Stelle debbano farsi un esame di coscienza Perché vogliono fare sempre gli splendidi, i primi della classe, i più bravi, i più buoni, i migliori di tutti Poi alla fine abbiamo scoperto che tra di loro ci sono persone che taroccano i bonifici nottetempo E questo credo che debba essere una riflessione perché credo che anche l'elettorato 5 Stelle farà fatica A votare una persona che si è autodefinita disonesta Il Consiglio regionale ha inoltre eliminato il finanziamento ai gruppi consigliari con una legge ad iniziativa del Partito Democratico E come ufficio di Presidenza abbiamo diminuito tantissimo le spese di gestione del Consiglio regionale Tant'è che lo scorso anno a consuntivo abbiamo riportato 1.900.000 euro alla comunità marchigiana Negli ospedali di Fano e Pesaro sbarca il Wi-Fi Tra i servizi più richiesti dagli utenti, soprattutto quelli che trascorrono lunghi periodi di degenza in ospedale Attraverso la rete Wi-Fi aziendale si potrà usufruire della navigazione internet gratuita In tutti i reparti e nelle aree comuni, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 Il nuovo servizio è già attivo, l'accesso è semplice, sarà sufficiente registrarsi seguendo le istruzioni che gli ospiti troveranno nei cartelli Che l'azienda sta affiggendo in varie parti dell'ospedale e degli ospedali Manifesti che riportano passo dopo passo appunto come fare È un'iniziativa legata a migliorare il comfort di utenti e visitatori Spiegano dalla direzione aziendale, soprattutto di quei pazienti che passano diversi giorni ricoverati nei reparti A Pesaro proseguono i lavori di sistemazione del centro storico Sabato alle 11 verrà inaugurata in Piazza Mosca l'opera realizzata dal maestro Vangi Un salotto nella città, senza auto, riqualificato E con una bellissima scultura di un grande artista La piazza davanti ai musei civici non poteva, dice e scrive il sindaco Matteo Ricci sul suo profilo Facebook Non poteva rimanere un parcheggio E questo è il video che poi Matteo Ricci appunto ha postato sul social network E adesso diamo lo spazio allo sport La linea va a Matteo Del Vecchio Grazie Marco, buonasera a te e ai telespettatori di Fano TV Apriamo la pagina sportiva come di consueto con il calcio e con l'Alma che purtroppo non è riuscita a bissare il successo di Ravenna E sabato è stata sconfitta in casa dal Vicenza Dopo tre pareggi ed una vittoria la corsa alla salvezza dell'Alma nel campionato di Serie C Viene rallentata dal Vicenza che seppur dichiarato fallito dal Tribunale e tenuto ancora in vita dall'esercizio provvisorio Non ha nessuna intenzione di alzare bandiera bianca Almancini finisce 1-0 per gli ospiti dopo una partita che già dall'avvio ha dimostrato quanta fame di vittoria avessero le due squadre I primi squili di tromba sono di Germinale da una parte e di De Giorgio dall'altra Con le due difese che riescono ad avere la meglio Seconda azione da gol per il Fano al quarto con Lazzari che viene stoppato in tuffo da Valentini E seconda azione da gol per il Vicenza al nono con il solito De Giorgio che impegna Tiam Dopo l'inizio arrembante le due squadre rallentano un po' il ritmo E il vantaggio ospite arriva in maniera quasi inaspettata con Tassi Che coglie in preparata la difesa granata e trova libero De Giorgio che con un assist perfetto offre a Ferrari la palla dell'1-0 L'Alma subisce il colpo e quando al terzo minuto del secondo tempo Varano lascia in dieci i suoi per doppia munizione Mister Brevi getta nella mischia Torelli e Melandri Varando un 4-4-1 che però non sortisce gli effetti sperati L'azione più pericolosa è proprio del neo entrato Melandri che al 33esimo fa fare bella figura Valentini Mentre due minuti più tardi cicca l'invitante assist di Lazzari Il portiere ospite Valentini è chiamato ancora in causa al 43esimo sulla botta dalla distanza di Schiavini Mentre al 45esimo episodio da Moviola in aria Veneta Con Tassi che probabilmente tocca con un braccio la palla proveniente dal corner di Lazzari Chiedono in rigore i giocatori dell'Alma ma per l'arbitro Cipriani di Empoli è tutto regolare E la gara si chiude quindi con gli ospiti a far festa e con il fano che resta ultimo a meno 4 dal trittico Composto da Sant'Arcangelo, Ravenna e Teramo Sabato prossimo trasferta Meda contro i Renate Una gara dove mister Oscar Brevi potrà contare sul neo acquisto Gennaro Troianiello 35enne bomber già ex di Verona, Frosinone, Siena, Sassuolo, Palermo e Bologna Che di recente è stato svincolato dalla San Benedettese E dalla sconfitta dell'Alma passiamo invece alle vittorie del calcio a 5 Con l'unplein delle squadre fanesi impegnate nei campionati nazionali In Serie A2 femminile vince da lunga il Flaminia Che grazie al 2-1 esterno sul campo dell'audace Verona Si riporta più 7 della Noalese Fermata sull'1-1 in casa dal San Pietro Di Martina Mencaccini ed Elisa Magnanti Le reti che consentono alle ragazze di Alessandra Imbriani Di mantenere saldo il primato Quando mancano 7 partite al termine della regular season Ne mancano 5 invece di partite in Serie B maschile E campionato che diventa sempre più avvincente per l'età beta Che sabato ha strapazzato per 6-0 in casa il Forlì Mantenendosi in piena zona playoff Dopo la doppietta di Lorenzete E i gol di Bei, Capotosti e Pietrelli Festa nel finale per il giovane Francesco Molini Fanese classe 2000 Autore di un gol strepitoso E giocatore di cui probabilmente sentiremo spesso parlare A completare il weekend perfetto È l'Alma che vince per 7-4 a Faenza Grazie alla tripletta di Damiano Giuliani Alla doppietta di Niccolò Copparoni E alle reti di Alessio Patrignani e Federico Rondina E domenica perfetta anche nel volley Grazie alla Virtus che di fronte ai propri tifosi Ha ritrovato il bel gioco ma quel che più conta la vittoria In un palazzetto dello sport come sempre gremito La Gibam supera per 3-1 la Bontempi Ancona E vede avvicinarsi sempre di più La permanenza nel campionato di Serie B La squadra fanese trascinata dai muri di Giuliani e Tallone E dalle stoccate di Lucconi e Paoloni Concede solo il secondo set agli ospiti Dominando gli altri tre parziali Vinti per 25-15, 25-14 e 25-19 E dimostrandosi anche lucida dal punto di vista mentale Quando nel finale un piccolo blackout Stava riportando sotto gli Anconetani E continuiamo a parlare di volley Per fare i complimenti alla fanese Ilaria Battistoni Classe 1996 Che ieri con la Battistelli di San Giovanni Marignano Ha conquistato la Coppa Italia di Serie 2 La giovane atleta fanese Elemento di spicco del panorama sportivo cittadino Proviene dal vivaio dell'Adriatica Gloriosa società fanese Di recente premiata per i suoi successi anche dal CONI E dal volley passiamo al rugby Con il fano che purtroppo continua a mancare L'appuntamento con la vittoria in questa fase della stagione Che la vede impegnata nei play-out salvezza Terza sconfitta consecutiva per la squadra rosso-blu Che in questa seconda fase del campionato Si sta giocando la permanenza nel campionato di C1 Sotto una pioggia torrenziale I ragazzi di Walter Colaiacomo e Franco Tonelli Vengono superati per 25-13 dal Castel San Pietro E restano ultimi in classifica a due punti insieme al Gran Sasso Squadra cui domenica prossima i fanesi faranno visita Alcune imperdonabili ingenuità nel primo tempo E un arbitraggio a dir poco discutibile nel secondo Sono le principali cause della sconfitta in terra bolognese Dove ai fanesi non bastano le due mete realizzate Da Raffaele Mattioli ed Enrico Bilancioni E il calcio di punizione di Alessandro Gasparini Come già detto domenica prossima Big match in Abruzzo Una partita assolutamente da vincere Per evitare così di compromettere la stagione E mettere un piede e mezzo in C2 Piccola parentesi di bocce Ora con i campionati regionali giovanili Che si sono tenuti ieri nel comitato provinciale di Ancona Medaglia d'oro nella categoria Under-18 Per Marco Principi Della bocciofila la combattente Fano Che dopo il titolo di campione italiano E campione europeo a squadre Mette in bacheca un altro prestigioso trofeo E sta iniziando a riempirsi anche la bacheca Del 14enne portacolori di Lucrezia Lorenzo Lucarelli Che dopo le recenti affermazioni in gare nazionali Si laurea campione regionale nella categoria Under-15 Ed è sempre di Lucrezia La neocampionessa regionale Under-18 femminile La plurititolata Chiara Gasperini E la chiusura di questa sera È dedicata al frisbee Le premiazioni dei quattro ragazzi fanesi vice campioni del mondo Che si sono tenute venerdì nella sala della concordia del comune di Fano Con la maglia della nazionale italiana Under-24 Lo scorso gennaio hanno vinto la medaglia d'argento ai mondiali in Australia E l'amministrazione non poteva certo rimanere indifferente a questa performance Bruno Main e Alberto Tonelli Fanesi ma tesserati per il CUS Bologna Luca Valentini e Tobias Main, tuttora nella rosa dell'associazione fanese Uffa Sono stati ricevuti e premiati venerdì dal sindaco Massimo Seri E dall'assessore allo sport Caterina Delbianco Un'esperienza indimenticabile, quella vissuta oltreoceano dai ragazzi fanesi Che ai nostri microfoni ci raccontano qualche aneddoto E fanno il punto sulla situazione del frisbee a fan Siamo quattro giocatori, tutti fanesi E giochiamo ormai da svariati anni E abbiamo partecipato insieme alla nazionale a questo evento Che abbiamo preparato per più di un anno E è andato molto bene Siamo vice campioni del mondo Abbiamo perso con gli Stati Uniti di pochissimo, solo due punti Siamo molto onorati e felici dell'esperienza L'evento è durato una settimana Era aperto in Australia E c'erano 16 nazioni nella categoria maschile 20 tra tutte le categorie Cioè compresa quella femminile e quella mista Negli ultimi anni abbiamo conseguito dei risultati veramente fantastici Come arrivare secondi in Europa Poi partecipare ai mondiali per club, eccetera Negli ultimi anni purtroppo alcuni ragazzi si sono allontanati dalla squadra Per esempio i nostri due bolognesi Per motivi di studio o di partecipazione con squadre di più alto livello Però comunque la situazione a Fano rimane compatta Siamo comunque una squadra forte che punta al massimo a questi campionati di quest'anno Ci alleniamo lunedì, mercoledì e giovedì Dalle 6 e mezza alle 8 e mezza al Campo del Donoriona Venite a trovarci E diventare vice campioni del mondo è una cosa che sicuramente non capita tutti i giorni Quindi anche noi facciamo i complimenti a questi quattro ragazzi fanesi Con il frisbee si chiude la pagina sportiva di questa sera Io come faccio sempre vi ricordo l'indirizzo mail Al quale potete inviare le vostre segnalazioni Che è sportchiocciolafanotv.it Per questa sera è tutto Grazie come sempre per l'attenzione L'appuntamento con lo sport di Fano ed intorni torna lunedì prossimo Buona serata Bene, grazie a Matteo Del Vecchio per la pagina sportiva Oggi compie 100 anni la signora genuina del bene Che è nata e risiede a Monbaroccio nel Pesarese Nubile, una donna ancora vigile e attenta A farle gli auguri, amici e parenti E naturalmente anche tutti noi di Fano TV Dopo il telegiornale c'è Box I personaggi di Fano poi in cucina con lo chef E uno speciale elettorale Sulla presenza di Giorgia Meloni Di Fratelli d'Italia a Pesaro Noi ci vediamo domani mattina alle 7.30 In diretta con occhio ai giornali La Rassegna Stampa Buona serata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti